Tribù Rossonera, amici di ogni dove, amici di ogni squadra, ma soprattutto amiche, bentrovati, bre, bentrovate, a un nuovo appuntamento settimanale con il bollettone del Marietto. Allora, dopo la prima volta che si è vinto, la seconda che si aveva peccato di troppo ottimismo, la terza volta un paio d'errori, la quarta un errore, ritentiamo un'altra volta a fare il pronostico settimanale con una certa logica e poi ditemi nei commenti qua sotto cosa ne pensate e anzi, se volete fare delle vostre proposte. Allora, io inizierei subito dalle partite di sabato. Bologna-Brescia ho messo 1x, 1.18. È un momento molto duro per il Brescia in questo momento, nonostante contro di noi abbia fatto davvero una partita. Scusate, nel frattempo sto mettendo qua la classifica perché almeno... ecco qua. Quindi, dicevo, il Brescia sta venendo da un bruttissimo momento, veramente gli costa tantissimo fare risultato, nonostante contro di noi avesse fatto una buona prestazione. Il Bologna, dal canto suo, viene da un buon momento, anche dopo che aveva fatto un pareggio in casa contro il Verona per 1-1. Ha vinto poi 3-1 settimana scorsa in recupero in casa della Spal. Quindi diciamo che è in un momento diciamo buono. Quindi 1x e la paga 1.18. Cagliari-Parma più 1.5. La pagano 1.28. È una partita che secondo me ci saranno gol. Io adesso voglio andare un po' più schiscio con le quote perché sennò qua facciamo i salti pindarici e poi non pigliamo niente. Quindi Cagliari-Parma io penso che può essere anche una partita anche addirittura direi 2-2, 2-1, anche più di due gol. Però intanto io metterei più 1.5. Sassuolo-Roma x2. La Roma adesso dopo il pareggio anche contro Lazio dove secondo me ha giocato anche meglio. È un Sassuolo che in ogni caso non sta venendo da un mal momento. Anzi aveva vinto 2-1 in casa con il Toro. Vi ricordate dopo aver recuperato l'1-0 e ribaltando nel secondo tempo la partita. La settimana scorsa ha fatto un pareggio 0-0 fuori casa però con la Sampdoria comunque si è presa un punto. Quindi per questo per me x2 e lo pagano 1.22. Domenica l'anticipo del midì del mezzogiorno delle 12 e mezza sarà Juve-Fiorentina. Allora sono due squadre che non è che stiano attraversando il miglior momento della loro stagione. La Fiorentina viene da un pareggio in casa con il Genoa e questa settimana ieri ha perso con l'Inter in Coppa Italia 2-1. Quindi è un ni la Fiorentina. La Juve viene da una sconfitta con Napoli 2-1 e non penso che voglia fare altre figure soprattutto allo Stadium. Prevedo gol. E quindi in questa partita io metto più 2,5 che lo pagano a 1.61. Alle 15 di domenica giocheranno Atalanta-Genoa. Anche questa per me è più 2,5. Con l'Atalanta ormai siamo abituati a vedere sempre tanti gol e non credo che il Genoa con la difesa che si ritrova sia da meno. Quindi io credo che un più 2,5 anche Atalanta-Genoa a 1.44 ci sta dentro. Lazio Spal è stata l'unica fissa commesso. Uno secco perché è una di quelle partite che non so come potrebbe andare. Finire 1-0, 2-0, 2-1, 5-0. Non lo so. È una di quelle partite che non riesco a vedere una previsione a livello di gol però sì di risultato. La Lazio secondo me anche se la Spal diciamo ha bisogno comunque di fare punti ma non credo che sarà l'Olimpico perché la Lazio avrà tutto a suo favore. Sarà la settimana della Lazio perché se riesce a vincere con la Spal e vincere il recupero con il Verona se la Juve poi vince, dipende da quel risultato con la Fiorentina, si ritroverebbe a due punti dal primo posto. Quindi secondo me se la gioca proprio col coltello 3 enti per vincere. Poi giochiamo noi alle 3 contro il Verona. Non mi azzardo a fare il risultato per scaramanzia, semplicemente per scaramanzia. Però più 1,5 lo metto. E non perché uno adesso vuole fare il ruffiano, vuole fare la parte di mettere le mani avanti. Ragazzi il Verona è una squadra veramente dura, dura, dura. Sarà una partita tra le più difficili probabilmente che abbiamo fatto da inizio 2020. Vedete quello che vi dico. Però io più 1,5 credo che un paio di gol questa partita ci saranno. Lecce-Toro alle 18 più 1,5 anche questa partita. Allora è un po' complicato dargli un risultato perché sarebbe da dargli una tripla questa partita perché può vincere tanto Lecce come il Torino che si risveglia e va a vincere, come c'è un pareggino schifosetto o con qualche gol. Io gli ho messo più 1,5. Qualche gol ci sarà sicuramente, però sinceramente non mi azzardo a mettere un risultato che ci metterei la tripla sinceramente. Udinese-Inter per quanto sono più propenso all'X2, come l'altra settimana avevo detto Inter-Cagliari 1-X, però direi più 1,5. Più 1,5 che anche questo lo paga 1,20 e penso che un paio di gol. Adesso ho visto anche ieri contro la Fiorentina l'Inter anche con l'arrivo di Eriksen ha un potenziale veramente importante. Quindi penso che i gol arriveranno. Purtroppo. E per finire lunedì Samp-Napoli X2. Secondo me continuerà questo filotto dopo questa vittoria con la Juve che sicuramente ha galvanizzato l'ambiente partenopeo. La Samp la vedo ancora traballante. È venuta da sto 5-1 prima col Brescia, poi ha perso 5-1 la settimana dopo con la Lazio. Ha pareggiato 0-0 domenica in casa col Sassuolo. Il Napoli penso che almeno un punticino lo vada a fare. Quindi secondo me X2. Bene, detto questo ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale con campanina accesa per rimanere sempre aggiornati in ogni mio nuovo video che esce on the air in YouTube e dirvi che domani sarà l'ultimo giorno di mercato. Quindi tenetevi pronti perché mi collegherò con voi in una maniera o un'altra. Adesso vediamo quando, se in mattinata, pomeriggio. Un paio di video sicuramente, molto probabilmente, uno sicuramente. Il secondo vediamo come va la giornata anche magari per aspettare la fine del mercato e poi fare una valutazione generale tanto nostra che delle altre squadre. Quindi ragazzi, mi raccomando, non vi dimenticate la parola d'ordine. Sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ci vediamo domani, passate una buona serata dal vostro marietto milanista. Ciao!